Il calcio è fatto di episodi, però gli episodi sono portati da quello che tu crei e quello che tu fai. Io dico che se noi alleniamo partite così, io voglio allenare partite così, oggi possiamo anche perderla. L'importante è che il risultato non ci condizioni. Noi continuiamo a giocare così. Allora comunque poi io dico che se giochiamo così le partite ne perdiamo poche, anzi ne vinciamo tante. E quindi capisco che è meglio commentare una vittoria, però noi abbiamo fatto di tutto per vincere. Abbiamo prodotto un buon calcio. I giocatori hanno dato il massimo fino alla fine. Alla fine abbiamo pareggiato e abbiamo provato a vincere ancora. Nonostante il tocco abbiamo preso e mancava poco, non ci siamo per niente persi danni, abbiamo continuato a offre. Questa non è la strada giusta, è la strada che dobbiamo percorrere e dobbiamo essere tutti orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo secondo me. Tutto questo è stato l'anno scorso, molte volte con me mi interi fa da quella parte per aver invertito, ma soprattutto per favorire Mario, per dargli a lui la posizione del buon geniale. Dall'altra parte lui trovandosi sul destro va sempre a cercare di portare troppo parte, invece da quest'altra parte rientrando trova la giocata. Quindi è un regolamento che abbiamo fatto. Credo che sia stato anche fruttuoso perché abbiamo creato abbastanza e hanno partecipato tutti e due nella relazione del gioco. Anche se poi le cose meglio le abbiamo fatte quando siamo passati a giocare con quattro attaccanti. Abbiamo espresso ancora più forza, più… questa è una strada che noi in allenamento percorriamo spesso, quando troviamo la posizione dell'arrivo